Hanno mandato i miei parenti in guerra in Ucraina In un post su Instagram, l'avvocato per i diritti umani ceceno ed in esilio, Abubakar Yangulbaev, ha affermato che le autorità della sua regione hanno costretto quattro suoi più stretti parenti maschi ad andare al fronte nella regione ucraina di Danetsk occupata dai russi. L'avvocato sostiene che non è la prima volta che la famiglia di Yangulbaev viene presa di mira, a causa del suo attivismo e delle critiche al leader ceceno Ramzan Kadirov. A luglio, un tribunale ceceno ha condannato la madre a cinque anni e mezzo di carcere, in quello che i gruppi per i diritti umani hanno definito un atto di ritorsione contro Yangulbaev e i suoi due fratelli, tutti noti ed attivi critici di Kadirov. Mentre la repressione in Russia si è intensificata, lo stesso è accaduto per le ripercussioni sulle famiglie dei critici del Cremlino, spesso non coinvolti in politica. Oltre ai casi già noti, diversi attivisti hanno confermato decine di persecuzioni in corso contro i loro familiari. Alcuni critici non hanno voluto parlare pubblicamente per timore di peggiorare la situazione dei loro cari. Le autorità russe costruiscono da anni il quadro normativo per zittire i dissidenti. Con l'invasione dell'Ucraina, questi sforzi hanno raggiunto una nuova intensità, culminando in leggi di censura bellica che potrebbero condannare qualsiasi critico a pene detentive lunghe. Nonostante abbia ampie vie legali per ridurre al silenzio i critici, Mosca ricorre spesso a metodi extragiudiziari. Le molestie e il perseguimento dei familiari stretti e lontani sono da tempo usati per esercitare pressioni improprie. Queste tattiche colpiscono soprattutto chi continua il proprio lavoro dall'estero ma ha ancora parenti in Russia. Sospettavamo che questo rischio esistesse, ma ho sempre cercato di convincerci che non eravamo alla pari di Navalny, afferma l'attivista Victoria Maladeva, che ha coordinato l'aiuto ai renitenti alla leva durante la mobilitazione. Il lavoro ha attirato l'attenzione delle autorità locali. Blogger filogovernativi hanno lanciato una campagna diffamatoria contro di lei, cercando di convincere le famiglie dei renitenti che aveva venduto informazioni sensibili all'Ucraina. Alcuni ci hanno creduto e si sono arrabbiati, dice Maladeva. Un canale Telegram ha accusato parenti lontani del marito di nutrire sentimenti antigovernativi. Oltre allo shaming pubblico e al cyberbullismo, ai parenti di alcuni attivisti sono state fatte visite dei servizi di sicurezza, mentre ad altri sono state perquisite o danneggiate le case. Richiamare parenti maschi alla guerra in Ucraina è un'altra tattica comune. Molti attivisti sono stati costretti a fuggire per proteggere le proprie famiglie. Sebbene usata ovunque, questa pratica sembra più diffusa nelle comunità più coese delle regioni periferiche. I metodi per prendere di mira i parenti degli attivisti variano. Talvolta vengono minacciati direttamente, altre volte le autorità esercitano pressioni indirette sfruttando la reputazione o il lavoro delle persone. È il caso di Svetlana Gannushkina, attivista per i diritti umani che aiuta i migranti a Mosca. Suo figlio ha subito controlli fiscali improvvisi e rovinosi nella sua attività commerciale. Era chiaro che volessero colpire me attraverso di lui, racconta. Anche Julia Galiamina, politica dell'opposizione finita agli arresti dopo le proteste del 2019-2020, ha visto suo marito licenziato. L'ufficio del procuratore generale russo ha inoltre inserito il nome di suo figlio in una lista di «agenti stranieri». I metodi coercitivi possono anche assumere forme più estreme. Nel 2018 un attivista ceceno, Imran Aliyev, è scomparso insieme a suo zio dopo essere tornato in patria per un funerale. Human Rights Watch ritiene sia stato rapito e ucciso da uomini legati a Kadirov. Nel frattempo, una proposta di legge potrebbe rendere punibile con il carcere insultare o diffamare membri della famiglia di un pubblico ufficiale. Un'ulteriore restrizione alla libertà di espressione che protegge ancora di più il potere. Gli attivisti concordano sul fatto che, sebbene Mosca promuova queste pratiche, siano le autorità regionali ad applicarle capillarmente, sfruttando la conoscenza della vita privata delle persone. Chi si oppone al sistema sa di mettere in pericolo non solo se stesso, ma chi gli è più caro. Grazie a tutti.